Andiamo subito con il primo posto, al primo posto c'è quello che le donne non costano di Silvestre Stallone l'unico individuo al mondo che ha dovuto diventare muscoloso per reggere il peso delle corna che portava in testa Ancora andiamo avanti, al secondo posto c'è una poltrona per due di Nordio e Prodi è un film che verrà trasmesso su tutti i voli dell'Alitalia, cioè una volta al mese se va bene Andiamo avanti, al terzo posto c'è Federico Fellini con Il Chinotto e Cald dopo il grande successo di Il Ginger e Fred Questa è tremenda ma me la dà uno sponsor che è un lassativo come abbiamo già detto altre volte Al quarto posto c'è L'Oro di Napoli con Lilli Carati, Vittorio Refice, Giuliano Gemma, Dario Argento e Sergio Rubini La regia è di Franco Zaffirelli E andiamo avanti ancora, al quinto posto c'è Je vous salue Voitiwa un brano del Cardinale Lefebvre che è stato proiettato al Festival dello Scisma di Econ recentemente, un festival che è andato fortissimo Poi c'è al sesto posto Caroline e Stefanie di Monaco con il film Le Grandi Valigie in francese Le Grandes Bagages E ancora, ancora, al settimo posto Il colore dei soldi Gli occhiali d'oro e per qualche dollaro in più una compilation di film interpretati da Nicolazzi, Darida e Colombo film veramente bellissimi per la regia dell'architetto De Mico in prima visione in tutte le carceri d'oro italiane E all'ottavo posto, nove settimane e mezzo La cronaca di un viaggio in traghetto per la Sardegna con Harrison Ford nella parte del turista E ancora, al nono posto, Il segreto del mio insuccesso di Achille Occhetto scritto dopo gli ultimi risultati del Partito Comunista Ma a questo punto, Letters in Chelsea, andiamo col rap Il top dei top dei 10, dei tip dei top della settimana vai con la base Enjoy yourself Please welcome Mr. Covata Sono stato a Terrungello per circa quattro anni Dicendo eccezionale, ho fatto molti danni Ma quando mi sono accorto che stavo sulle spese Ho detto, uè Pauscia, è meglio il milanese Io sono Barron Brando, attore sopraffino Il ruolo più famoso, quello del patrino Col tango di Parigi mi sono fatto amare Le vendite del burro ho fatto lievitare Io so, Christophe Lambert, la scimmia sulla liana Oppure il delinquente della metropolitana Per tutte le ragazze io sono quello più ok Perché non tutte sanno che sono un poco gay Io mi tengo in forma da quando sono nato Sono Castelnuovo, quello rintronato Ho provato a saltare la staccionata Ma la gamba mi è rimasta paralizzata Io sono Ornella Muti, signora Facchinetti A te non filmo un figlio a due secondinetti E a tutte le aspiranti che vogliono sfondare Io do questo consiglio, ginastica sensuale E io sono vero duro, mi piace l'avventura Mi mandi dappertutto, io non c'ho mai paura Sono proprio Harrison Ford, attore maledetto Ma a quasi 40 anni faccio ancora più più a letto Let's all dance Ok E alla prossima hit che non ci sarà in un'altra parte Sigla Grazie Grazie Grazie